Oggi, mercoledì 2 marzo, è il primo e unico giorno di sosta extra large a due passi dalla stazione ferroviaria. C'è infatti un parcheggio abituale che domani sarà transennato e un parcheggio nuovo che da oggi viene aperto. Ma facciamo ordine come anticipato nei giorni scorsi e come ci ricorda anche questo cartello. Da domani, giovedì 3 marzo, chiuderà il parcheggio alla nostra destra, il cosiddetto parcheggio di Porta Cappuccina. Il nome della SRL privata che decide per la chiusura dopo un braccio di ferro col comune di Pesero su un impegno d'acquisto del terreno trascinato da anni e mai realizzato. Comune che pur sempre intenzionata l'acquisizione ma i tempi a quanto pare non sono immediati. Ne ha abbastanza Porta Cappuccina che domani chiude ma il comune di Pesero cuce in fretta la toppa aprendo oggi per la prima volta la nuova area di sosta affiancata di pochi metri. Si tratta del parcheggio in cui ci troviamo ora in cui hanno cominciato a parcheggiare circa 20 auto. Le prime a inserirsi in questa nuova area di sosta inserita tra la ferrovia e lo stesso parcheggio di Porta Cappuccina. È un parcheggio che il comune ha recentemente acquisito da rete ferroviarie italiane tramite il progetto Sprint del Bando Periferie. Si tratta di circa 150 posti auto ovvero leggermente meno di Porta Cappuccina ma intanto è una situazione utile a conciliare le esigenze di fruizione della sosta della città. Una soluzione che di fatto è stata accelerata visto le circostanze di chiusura di Porta Cappuccina aprendo dunque questa area che prossimamente aprirà anche il Bike Hub dedicato alla mobilità sostenibile. Ed è un tema parcheggi assolutamente d'attualità visto che lunedì scorso in Consiglio Comunale è passato all'unanimità anche il progetto di fattibilità per il parcheggio Villa Marina fra Viale Trieste e Viale Gorizia rendendo definitiva la recente fase di sperimentazione in zona mare. L'intervento sarà di 200.000 euro in cui realizzare un parcheggio a raso destinato ad accogliere 165 posti auto. Sono previsti interventi alla pavimentazione, all'illuminazione e alla segnaletica. Grazie a tutti.